No, siamo a un punto dove ognuno sa quello che fa l'altro, io parlo di Zapata ma anche di Mario e di Bonera perché comunque siamo noi quattro a stare lì e sinceramente la concorrenza che sia tra di noi è molto sana e penso che stiamo lavorando bene anche se dobbiamo migliorare alcuni punti di ripartenza, di passaggi e di tutto questo. Ma penso che abbiamo una bella zona dove siamo 4-5 a poter giocare e questo è importante per il mister. No, speriamo di no, però la cosa più difficile a gestire è quella cosa di l'oforia di quella partita lì ma sappiamo, siamo conscienti che è una partita fondamentale per il campionato, siamo lì e vogliamo continuare a stare sul pezzo davanti quindi all'andata l'abbiamo perso questo derby e domenica faremo di tutto per riprendere i tre punti che ci hanno presi in casa. Sì, penso come tutti quanti, io ho avuto i miei problemi e ho provato a risolverli con lo staff, con i preparatori fisici quindi alla fine il mister quando mi dà la possibilità di giocare voglio sempre dare il massimo e cercherò fino alla fine di contribuire a fare la storia del Milan e speriamo che quest'anno faremo qualcosa di inaspettato.